Salve ragazzi, oggi siamo qua con Soma, un survival horror davvero inquietante e di alta qualità da quello che ho sentito parlare Per provarlo insieme e decidere se farci una serie in futuro Allora, iniziamo una nuova partita, assolutamente E i mosti sono pericolosi, possono ucciderti Allora, vediamo un po' Io farei... Oddio Sto pensando se farla facile o difficile E... Boh, proviamo normale innanzitutto, se no... Sì dai, proviamo normale, ok Accettiamo la sfida Sono davvero curioso di vedere che gioco sia Davvero tanto, tanto, tanto Caricamento è un po' lento, eh Un bel po' lento Non è massimo Ecco, prendere questo No, è per l'escrizione, per l'escrizione È verde Ashley, ho bisogno di dire qualcosa Sì, non è vero Sì, non è vero Sì, non è così Ma ora Ora... Chi è Davide Munchi? Perché non c'è più tempo? Per quanto? Sì, sono qui. Ciao, Simon Jarrett? Sì, sono io. Mi nome è Davide Munchi. Abbiamo parlato prima. Il brain scan, lo ricordo. Sei ok? Sì, sì, è solo un buon sogno. Siamo ancora qui per oggi? Sì, è per questo che mi chiedo. Voglio ricordarti di piacere il fluido di tracer che ti ho sentito. Mi aiuterà a capire un'immagine migliore delle damage. Non ti preoccuparti, ho l'ho trovato. Ok, bravo. Ci vediamo in un paio di ore. Ok, ci vediamo in breve. Che stranezza. Ok, andiamo subito a modificare le varie impostazioni. Allora... Audio. Mettiamo un po' meno. Ok. Vabbè, per il modo il mio è abbastanza basilare. Ok. Dove ho messo il fluido di tracer? Vabbè, questo non ci serve. Sotto. Presi. Robin McConnell. Nel. Ok, la trama è abbastanza... Ah, ok, posto. No. Niente. Chiudiamo. Cosa? un bel messaggio mi sento un'email che mi ha ricordato si può interagire con quasi tutto adesso bisogna che troviamo questo fluido assolutamente dovrei mangiare il fluido di tracer prima di andare a vedere il Dr. Munchy non mi sembra di farlo potrei acquistare qualcosa di migliore una pizza buona una pizza però non ci serve in questo momento sarà da qualche parte immagino guardare la tv mi ha scoperto grazie brain un tv che dice no disk non l'ho vista massive recoil ok no questa è la tazza che prima ho lanciato una foto un'altra foto un'altra foto ancora qua si parla della della seduta nuova prescrizione non è la dottoressa rinpick cioè quindi io ho un'emorragia che continua tutti i giorni praticamente che bella cosa eh ci sono anche delle bozzi delle bozzi delle bozzi no ok si può vedere ok oh ho forgot to hit send ahhh ahhh qui ha un negozio praticamente better late than never perché oggi che giorno oggi è già sabato c'è arrivata una cosa di oggi praticamente insomma possa servire ormai ok e vediti presto tv be mamma oh summer's coming ho aperto la fine la delle cose sarà in cucina immagino no non penso che sia in bagno in fluido però è sempre meglio provare a cercare che è la cosa che ci interessa ma dove l'ho messo fluido io ma questo passa a parlare il cervello bene o male ma questo passa a parlare il cervello bene o male però io non trovo il fluido che è la cosa che ci interessa non è quello posta per noi c'è posta per te ricorda la regess ti amici nei fiori per il funerale wow che bellezza i fiori per il funerale no qua non c'è niente non lo trovo il fluido io non so dove sia ho un problema se qui era mare cosa è mia figlia sempre mare se poi vorrei aiuto no lo trovo sarà qui da qualche parte immagino è tutto qua è tutto quanto guarda qui ho trovato questo fluido pizza fuori fluido fuori dai partiti di scherz dov'è? ma se vuoi uscire da casa posso? non posso uscire di casa mi stanno costreggendo a stare in casa io voglio uscire di casa perchè non posso uscire di casa? si è bagato? andiamo per i gradi allora è tutta una cosa che non trovo perfetto già questo è abbastanza brutta come cosa no? questo qui no basta facciamo la doccia si può fare la doccia non voglio mantenere il doccio aspettare vedo quando arrivo eh io vorrei andare da dottore ma se non mi fai trovare sto liquido mi pare un po' difficile niente sto soffrendo come un cane vi giuro non lo trovo perché non lo trovo? no no ho sbagliato sbagliato bucchiali fuori ok partiti partiti di scherzi dove può essere vi giuro che non lo trovo cioè cosa devo fare? boh perché c'è del sangue per terra? sto facendo ogni cosa ogni più fottuta cosa e non riesco a trovare un fottuto liquido ma veramente oh che bella luce così ma posso uscire da questa cavolo di stanza? no ma non può essere qui dentro ah ok sarà quello io invece no ah potevamo anche estragliarmi del tutto no però faranno santo oddio ce l'ho fatta aiutatemi mamma mia che fatica che ci ho messo c'è stavo per morire veramente sì sì sto articolo parla di noi decisamente ok 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 qua sotto c'è cos'altro? no ok finalmente possiamo andare avanti ah ho rotto una casa intera però possiamo andare questa è una cosa positiva questa è una cosa positiva che bello posticino accogliente pulito pulito e chi è adesso posso anche ignorare? no vabbè rispondiamo dai jessi no vabbè rispondiamo no vabbè rispondiamo in effetti sì in effetti o forse più camici non lo so un posticino stranissimo ma sento tipo che stia tipo sta sloccando così no che posti un po' abbandonati è vuoto di gente qua non c'è nessuno le robe nello stesso quando diciamo ci mettiamo a a esplorare le cose degli altri magari capito se vuoi c'era se vuoi c'era solo magari piacerebbe ok che cavolo dovrebbe essere interessante ma che strane queste cose ma sicuri che sia un po' straffilabile io sinceramente andrei via però vabbè il codice dovrebbe essere se dovesse parti 2501 proviamo sapevo io perché dovrei correre in questo momento non posso nepprendere vabbè medicina e niente ok dovrebbe entrare qua dentro la prima aspetta la prima di qua si ma che posto strano è questo mamma mia che stranezza ma che cavolo ma non c'era niente perfetto eccolo ok che che tracer flow yes bui insomma esplorato ma sono poi partiamo magari cos'è liceo di toccare qua avvaluce c'è quindi un n del dottore in realtà c'è uno che sta studiando per diventare dottore in poche parole vabbè sediamoci va vediamo che succede ho un po' di paura sinceramente però non si sa mai no ancora bene canada di munchi born 1988 16 right flat neurograph version 6 good all files in order well this hurt it's just a scan it'll hurt about as much as getting your picture taken indians thought cameras would steal their souls is that so well let's hope they're wrong ready say cheese ok forse la cosa non è andata come doveva andare questa vaga impressione hello Mr. Munchi did something go wrong no so posto posto this isn't funny I'm not supposed to put myself in dove siamo scusa ma che ca non era come me l'aspettavo ah ormai peggio di così penso che non si possa andare vabbè a sto punto andiamo al al terminale qua no non posso far niente cosa che devo fare scusate di qua non ci posso andare di qua no no totbox caseta di attrezzi che è successo ah devo rompere questo qui per caso il vetro mi sa che si interessante questa cosa qua il gioco mi ispira un botto ce l'ha fatto ora dobbiamo andare o forse no vabbè sta salvando dobbiamo andare in bagno no magari più tardi cosa cazzo cosa cazzo non è non mi sporco quanto pare no ok sto gioco è molto 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 strano ed è inquietante un casino mi sa salvare in mano che c'è qua ok sto gioco è orribile cos'è sto casino queste cose per terra porca boia che cosa ho visto ma che caro ho delle visioni mi sa come come mi fa che è successo ora cosa ma si fa l'orientale o c'è che c'è tutto a posto ma c'è il trucchetto qua no dov'è il nemico? dov'è? dov'è sta? no devo andare lì per forza? ma non ci vuoi andare lì? sai cambio strada? potrebbe essere una buona idea forse non è stato di qua che cosa potrebbe esserci? comunque continuo a non vedere un bel nulla non per dire ma no manca la tessera come faccio ora? no non posso ok devo andare lì per forza beh dai sono contento porca boia ad andar lì per forza ragazzi come faccio io a sopportare questa cosa qua sono paura a pensarci mi faranno santo perché non c'è niente ok ho trovato quindi ora posso usarlo finalmente che casino che fanno ste cose per terra oddio usciamo qua che forse è la cosa migliore cosa cazzarola è? ma io lì non ci passo eh mi sono bruciato mi faranno santo mi faranno santo raga come negato? ma che sta di questo? no negato dai ma porca trota e adesso? dove vado parca toccato aiuto di nuovo veramente aiuto 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 ah no devo andare a ripristinare la corrente è vero mi ricordo andati là devo andare è vero non posso nemmeno correre perché ho paura che mi sgamano dio santo è dura la vita ragazzi dura ok mi sa che è là chiudi chiudi la porta ok ok ah di qua ho inserito dai più veloce più veloce dai vabbè eh diciamo una cosa qua aspetta sistemi di emergenza 13 giorni rimanenti queste perfette cos'è sta roba pilota vabbè attività situazioni squadre abitative vabbè ok a che Ah, devo aggiornarlo? Aggiorna, ok A posto, fatto Ora in teoria posso andare Teoria Non posso salvare, ok, posso salvare Io ragazzi direi che possiamo fermarci qua per il momento Io vi ringrazio E ci vediamo in un prossimo episodio Nel caso che diventi una serie Ciao ragazzi Ciao